22 febbraio 1987. Muore a New York Andy Warhol, figura di spicco della pop art americana. Figlio di immigrati slovacchi, rivela subito un grande talento grafico e si afferma nel mondo della pubblicità new yorkese, lavorando in riviste come Vogue e Glamour. Le sue opere più famose sono diventate delle icone Marilyn Monroe, Mao Zedong, Che Guevara, ripetute tante volte così come i marchi di grande consumo, Coca-Cola, Campbell's o i detersivi Brillo. Nella sua factory a New York ospita artisti come Jean-Michel Basquiat, Francesco Clemente, Keith Haring. Prima di morire aveva appena finito di realizzare Last Supper, un'ultima cena ispirata a Leonardo da Vinci.